36 35 e val 35 val 36 yun what's up mga loody ngayon ay nasa decathlon kami ngayon kasama po si stephano ayun guys naghahanap kami ng botas para kay nathan ano kaya ang kulay ang gusto ni nathan step may verde may yellow meron rose red rentas eh 36 36 sicuro vedete non c'è un altro 34 34 36 37 veloce c'è solo questo eh c'è solo questo 35 e 36 c'è questo nero eh c'è anche questo nero che colore vuoi? che colore vuoi? che colore vuoi? che c'è? no questo nero è rosso che misura? questo va il 35 e il 36 35 perché c'è due misure? eh? 37 37 non c'è 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 c'è solo il 35 il 36 c'è finally mga roadie eto ang napili namin na botas para kay nathan non c'è 1 hour later so eto lang nga mga roadie at nakarating na kami sa bahay ni stephano tamang tama dumating na rin si nathan galing sa school kaya tuwag tuwal siya at excited na isunuto sinukat ang kanyang mga botas guarda wala rin yung gusto hmm non c'è piccolo no non c'è grande no wow wow kinabukasan mga roadie tamang tama umuulan dito sa italia ayan kaya sinuot na ninetana ang kanyang mga botas kaya tuwang tuwa siya no c'è no c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti.